Si parte da un concetto nato nei fumetti americani per spiegare le discrepanze nella continuità temporale in relazione ai molteplici universi paralleli che si suppongono esistere e si arriva fino al lavoro in video di 10 artisti contemporanei installatisi nella casa milanese dove un tempo lavoravano gli ultimi futuristi. La parola che giustifica questa frase apparentemente sconnessa è Ipertempo un'idea cui è dedicata alla collettiva allestita in Futuro Dome e curata da Ginevrabria giustamente intitolata Hyper Times. Hyper Times è una mostra che ragiona sui passaggi temporali e sulle stratificazioni del tempo a tutti i livelli, dal ritmo al suono, alla possibilità di performare il tempo cambiandone le sembianze ha la possibilità addirittura di riportare il tempo aerea geologica in cui l'uomo non è neanche consapevole di quella che sarebbe stata la propria contemporaneità. Se nella fantascienza sono le linee temporali a incrociarsi e a generare singolarità qui in mostra, dentro spazi che hanno il ritmo dell'imprevedibile benché in fondo la loro planimetria sia semplicemente quella di un appartamento altro punto di frizione interessante, sono le idee di tempo che sorreggono i lavori la loro intimità, la loro ripetizione, la loro ricerca semantica fino ad arrivare alla semplice persistenza che in qualche modo sì è anche quella della memoria contemporanea. È un tempo che può essere il tempo virtuale che noi passiamo sul computer come fa Patrick Panetta, è un tempo irreale come potrebbe essere l'ipertempo o una teoria sull'ipertempo che è quello di artisti o persone di strada transessuali che aspettano l'arrivo di una nuova dittatura oppure è un tempo che semplicemente non passa come il tempo di Michel Karl che lascia bruciare l'ultimo gadget di un mito come Karl Cobain per ore e ore e ore senza che effettivamente nulla si consumi. Come ogni dia mutuata dalla fantascienza, anche quella di ipertempo è certamente politica e così lo è anche la mostra. Però è una politica che prende forma concettuale in molti casi che si muove su un secondo livello dentro una sorta di ipertesto che è in fondo il luogo segreto nel quale le cose narrate accadono in profondità. Potremmo dire anche con maggiore verità ma stiamo parlando di opere d'arte in video forse sarebbe troppo anche se uno dei punti alla base della teoria dell'ipertempo è proprio l'assunto che dice è tutto vero e qui è giusto fermarsi lasciandosi travolgere dalla commozione davanti alle vans di Cobain e alla loro disperata malinconia immobile.